Musica Benvenuti al TG10, vicenda Eni in apertura del telegiornale, tiene banco in questa ora a Gela lo scontro politico tra la giunta comunale ed il partito democratico dopo la decisione assunta dal colosso industriale di rinunciare alla costruzione della piattaforma prezioso K e di optare sulla costruzione di impianti a terra per il trattamento del gas, il cui impegno in termini economici, dice Eni, non si discosta molto da quello della piattaforma. Un vero e proprio scontro politico. La vicenda Eni tiene banco nelle ultime ore in città dopo l'incontro di un discorso al Ministero dello Sviluppo Economico in cui il Caners e Zampe ha annunciato di rinunciare al progetto della costruzione della maxipiattaforma prezioso K all'allargo delle coste gelesi, optando sulla costruzione di impianti a terra per il trattamento del gas, il cui impegno in termini economici, dice Eni, non si discosta molto da quello della piattaforma. L'amministrazione comunale di Gela, dopo l'attacco sferrato ieri dal partito democratico, contraattacca. Proprio ieri il PD ha accusato l'Aggiunta di essere assolutamente inadeguata a rappresentare gli interessi della comunità gelese, parlando di un ennesimo scippo di investimenti consumato ai danni della città. Subire, dice il sindaco domenico missionese, la reprimenda dallo stesso partito che ha suggellato la chiusura nel 2014 di uno dei più grossi poli industriali d'Italia, tra un selfie ed uno slogan trionfalistico, e quanto di più beffardo potessimo aspettarci dalla politica locale. Con tutta la buona volontà ad ascoltare l'esperienza ad Edemma in fatto di contrattazioni, ha aggiunto invece l'assessore allo sviluppo economico Simone Siciliano, non sono disposto a diventare discepolo di cattivi maestri. Se noi avessimo dovuto alzare un dito per contrastare la migrazione di un investimento dal mare aperto alla terraferma, con minore impatto ambientale e più opportunità occupazionali per la mano d'opera locale, il PD avrebbe dovuto tranciarsi le braccia al momento di firmare la condanna a morte di un intero apparato industriale che sostentava buona parte dell'economia dell'Interland gelese e che solo grazie all'intuizione dell'amministrazione di cui faccio parte e alla capacità di costruire, concertando con il Governo centrale, il Governo regionale, Eni, sigle dettoriali e sindacali, è stato possibile mettere le basi per una riconversione strategica della ormai ex-rafineria in un nuovo sito per la trasformazione, produzione e distribuzione di carburanti alternativi. Ritenendo solenni impegni ufficiali annunciati lunedì da Eni alla presenza del Vice Ministro Beranova, hanno concluso i due amministratori comunali, siamo certi che il management della più grossa azienda mai esistita a Gera provvederà a relazionare e documentare sulle reali ricadute occupazionali del nuovo piano finanziario di investimenti, sottolineando il migliorato e ridotto impatto ambientale derivante dalla nuova soluzione più sostenibile dai punti di vista economico, sociale e ambientale. Se l'uno e l'altro aspetto, chiudono Messinese e Siciliano, risulteranno migliori rispetto al progetto precedente, avremmo forse la sola responsabilità di avere concretamente dimostrato la vera inefficienza politica degli esponenti di quel partito non pervenuto che finora ha voluto accaparrarsi paternità delle proprie colpe, mascherandole per conquiste strabilianti. Intanto Peppe Di Cristina, segretario locale del Partito Democratico, sottolinea che siamo preoccupati per come si stanno sviluppando le vicende attorno al protocollo d'intesa e per questo ci siamo messi in contatto con i vertici nazionali del nostro partito e nelle prossime settimane, assieme al capogruppo Enzo Cidignotta, all'onorevole Peppe Arancio e ad altri esponenti del partito della città, incontreremo esponenti del governo nazionale e dell'esecutivo nazionale del nostro partito. Siamo già in contatto con l'onorevole Tonino Moscat, che pianificherà per la prossima settimana un doppio incontro, uno con l'onorevole Stefania Covello, responsabile nazionale, mezzogiorno del PD, e uno col vice ministro Bellanova per fare il punto sulle questioni che riguardano Gela. Per quanto riguarda il sindaco, dice Di Cristina, vogliamo ricordare che la campagna elettorale è finita 15 mesi addietro e adesso è arrivato il momento di pensare alla città. Lo invitiamo ad essere più rispettoso nei confronti del PD che anche il partito del governo nazionale che il sindaco dovrebbe ringraziare. E in una nota Eni conferma la volontà di portare avanti il progetto Argo Cluster, la soluzione presentata al tavolo di coordinamento presso il Mise, dire un discorso, non modifica in maniera sostanziale l'impegno economico del progetto, anzi, dice Eni, ne migliora le ricadute industriali sul territorio. In sede ministeriale è stato sottolineato che per la costruzione degli impianti a terra saranno coinvolte aziende e manodopera gialesi in analogia con quanto sta accadendo per la riconversione della raffineria, a differenza della piattaforma la cui realizzazione sarebbe avvenuta al di fuori del territorio in mancanza di strutture locali e comunque soggetta a bando internazionale. La soluzione proposta è il frutto dell'approccio Eni nel cercare continuamente soluzioni per migliorare i progetti e renderli più sostenibili per il territorio. E sulla vicenda è intervenuto anche Lucio Greco di un'altra Gela. Senza entrare per ora nel merito delle scelte tecniche delle ricadute occupazionali e ambientali, la decisione da parte dell'Eni di interrompere la realizzazione della maxipiattaforma Prezioso K dimostra ciò che sapevamo. L'azienda fa e disfa quello che vuole secondo i propri esclusivi interessi economici e aziendali, soprattutto quando di fronte come interlocutori degli amministratori della stazza di Messinese e Siciliano. Lucio Greco di un'altra Gela non le manda a dire in merito all'incontro che si è registrato lunedì al mese sulla vertenza Gela. La verità è purtroppo più semplice di quanto si voglia far credere, dice Greco. L'Eni, attenta come sempre a tutte le dinamiche dei territori dove opera, sa bene che Gela di fatto non ha un'aggiunta degna di questo nome. L'Eni sa bene infatti che la nostra città è amministrata da un sindaco espulso dopo due mesi dal suo insedimento, dallo stesso movimento che lo aveva fatto eleggere, privandolo così di qualunque credibilità, legittimazione e autonovorezza politica. L'Eni sa anche bene che il vice sindaco a cui lo stesso Messinese ha delegato la gestione di questa importante e delicata trattativa è storicamente vicino all'azienda e non è quindi un interlocutore scomodo con cui è difficile dialogare. Lucio Greco si pone degli interrogativi, ma sindaco e vice sindaco sapevano qualcosa di questa decisione? Sono stati informati da tutti quei dirigenti che hanno incontrato in centinaia e centinaia di incontri? Hanno avuto sentore di ciò che boliva in pentola? A cosa sono serviti allora tutti quei viaggi fatti a Roma e strombazzati a destra e a manca come se si fosse conquistata la luna? Di fronte a ciò che si sta verificando e che continuerà a verificarsi tutti quanti di centro, di sinistra, di destra, tutti i sindacati, confederali e non, dobbiamo prendere coscienza di una triste verità. In un momento così delicato la nostra città non può essere guidata da un'amministrazione di questo livello, per giunta non rappresentativa di nessuna forza politica. La loro permanenza, chiude Greco, per motivi tattici può far comodo a qualcuno, per la città rappresenta invece un danno, un grave danno. Verso il referendum costituzionale, le ragioni del sì e l'argomento che sarà trattato venerdì il 23 settembre alle 18 nei locali dell'autore Sileno di Gela, su iniziativa dell'associazione Centro Studi Salvatore Aldisio. Modellerà Lillo Giardina, presidente del centro. Saranno presenti Giuseppe Lupo, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, ed Ettore Rosato, capogruppo PD alla Camera dei Deputati. Il ricorso per Gela, promesso dal sindaco Domenico Mersinese, tarda ad arrivare e l'ospirare del termine di proposizione, sancirà la definitiva bocciatura da parte dell'Assemblea regionale siciliana. Il comitato Gelensis Populus, così come annunciato qualche giorno dietro ai nostri microfoni dal portavoce Riliana Bellardita, scende nuovamente in campo e lo fa con un volontinaggio. Per le strade della città i componenti del gruppo stanno informando i gelesi di cosa sta accadendo dopo la bocciatura da parte dell'Assemblea regionale siciliana dei decreti legge che dovevano formalizzare il passaggio territoriale delle città di Gela, Niscemi e Piazza Almerina, alla città metropolitana di Catania. Si stanno rivolgendo direttamente alla gente, ricordando che la città ha affrontato una notevole spesa a quasi 20.000 euro per effettuare il referendum confermativo del 2014. Non essere conseguenziale rispetto a quanto detto dal primo cittadino con la proposizione del ricorso contro la regione, dice Gelensis Populus, significa tradire la volontà democraticamente espressa, vanificando il referendum e sancendo il definitivo addebito della spesa sui cittadini gelesi. Il sindaco rimarca al comitato, ha voluto fare sua la battaglia dei liberi consorsi delegando l'assessore Francesco Salimitro quale assessore metropolitano. Più volte i due alti componenti della giunta si sono legati a Catania incontrando ufficialmente il sindaco Enzo Bianco con il quale ci sembrava stesso operando per agevolare il nostro passaggio verso la città metropolitana di Catania che oggi vediamo ancora lontano. Adesso manca poco alla scadenza del termine entro il quale è possibile fare ricorso promesso da Messinese e noi, dice Gelensis Populus, non possiamo fare finta che tutto vada bene nascondendo i fatti alla città. Chiediamo a tutte le associazioni che si sono battute per il passaggio di Gela, Niscemi e Piazza Almerina alla città metropolitana di Catania di uscire dal silenzio per unirsi alla nostra protesta. I componenti del comitato si rivolgono direttamente al sindaco Messinese. Hai detto che l'unica soluzione è fare il ricorso contro la regione? Adesso fallo, prima che sia troppo tardi. La pagina della cronaca giudiziaria. Tre giovani gelesi sono stati arrestati dai carabinieri. Si tratta di tre minorenni. L'accusa è di tentato furto aggravato. I militari dell'arma sono stati allertati ieri sera dalla chiamata al 112 di alcuni residenti della via Bombelli che hanno segnalato di aver visto i tre giovani arrampicarsi su una grondaia. I militari dell'arma, prontamente intervenuti, doveva recinturato l'abitazione con agilità e attenzione, hanno fatto irruzione in casa trovando i tre giovani che in vano avevano poi cercato rifugio nascondendosi proprio all'interno dell'abitazione. I tre minorenni sono stati quindi condotti dei militari in caserma e dopo le formalità di dito sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato in abitazione in concorso. Adesso sono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria per i minorenni di Caltanissetta. Sono stati sorpresi dal proprietario di un'abitazione con parte della refurtiva rubata poco prima dal suo appartamento e lo hanno minacciato intimandogli di non presentare denuncia. In manette tre giovani nissegni, il 25enne Davide Isola, il 24enne Vincenzo Giglio e il 18enne Samuel Geraci, resisi responsabili dei reati di rapina in concorso ed estorsione. I tre giovani sono stati tratti in arresto dei carabinieri del nucleo operativo di Caltanissetta dopo le indagini portate avanti dai militari a seguito della denuncia presentata dalla vittima lo scorso 21 agosto. Un'attività investigativa grazie alla quale i militari hanno appurato il tentativo di estorsione da parte del solo Davide Isola, il quale si era offerto di far ritrovare l'area furtiva, ossia una Playstation e un televisore di 55 pollici, in cambio di 500 euro. Una proposta accettata dalla vittima, solo che al momento dello scambio avvenuto lo scorso 9 settembre a Piazza Marconi, sono intervenuti i carabinieri che hanno così arrestato in flagranza di reato Davide Isola, mentre i soldi dell'estorsione sono stati recuperati e restituiti alla vittima. Individuati gli altri due autori della rapina, sono stati tratti in arresto su ordinanza della Procura della Repubblica di Caltanissetta. Davide Giglio si trova ora al carcere Malaspina, mentre Samuel Geraci ha gli arresti domiciliari nella sua abitazione. E' stato inaugurato ieri a Niscemi, lo vediamo nella foto, presso il centro di accoglienza per diversamente abili di contrada a Pavituso, il murales è dedicato al giudice ragazzino Rosario Livatino, assassinato dalla mafia il 21 settembre del 1990. Il murales, lungo circa 6 metri ed alto 2 metri, è stato progettato dall'artista nisce-mese Eleonora Pedilarco ed è stato realizzato con la partecipazione di tutti i ragazzi diversabili del centro. Sono in pagamento al Comune di Gela i contributi relativi all'acquisto dei libri di testo riservati agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2013-2014. Lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali e all'istruzione Ligia Abela. I beneficiari degli eventi diritto per riscuotere la somma dovranno recarsi agli sportelli della banca Unicredit muniti di documento di riconoscimento valido e codice fiscale. È stato pubblicato sul sito internet dell'istituto comprensivo Giovanni Verga di Gela all'indirizzo vergagela.gov.it il bando di reclutamento di esperto esterno in lingua inglese, progetto infanzia con l'inglese per l'anno scolastico 2016-2017. La modalità di accesso è la seguente, essere docente madrelingua o in subordine esperto con comprovata esperienza in percorsi scolastici infanzia in lingua inglese. I termini di partecipazione sono previsti entro le ore 12 del 4 ottobre. Fai la cosa giusta, differenzia i rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, mercoledì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione gli imballaggi in plastica e metallo, multimateriale, nell'apposito sacco trasparente. Cosa conferire? Plastica, piatti e bicchieri monouso in plastica, bottiglie di acqua e bibite, flaconi, taniche, dispenser e tubetti vuoti per detergenti, detersivi, shampoo e dentifricio. Prodotti per l'igiene della persona e della casa, baschette, contenitori, buste e sacchetti per alimenti, imballaggi in polistirolo, reggette e stringipacchi, blister, reti e cassette per frutta e verdura, contenitori con sigle PET, PVC, PPP, PS. Cosa conferire metalli? Lattine per bevande, scatole e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo, pelati, tonno, mais, cibo per animali, contenitori di prodotti per igiene personale, tappi, coperchi e stampi per dolci in metallo, carta in alluminio di uso domestico pulita, contenitori in alluminio per alimenti puliti, bombolette spray vuote, non pericolose, coperchi in alluminio degli yogurt, lattine con il simbolo AL. Come conferire il multimateriale? Gli imballaggi in plastica, assieme agli imballaggi in metallo, alluminio, maglia stagnata e metalli vanno conferiti puliti utilizzando l'apposito sacco trasparente. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Ed eccoci in seconda parte del telegiornale, prevista per venerdì 23 settembre prossimo alle 18 nella chiesa di San Giacomo a Gela, la solenne celebrazione in onore di San Pio, protettore della protezione civile italiana. Saranno presenti volontari per il soccorso, eligioso soccorso, gombes e giubbe d'Italia. La manifestazione vedrà la partecipazione di numerosi volontari provenienti dai corpi cittadini e dalle varie province siciliane. Sentiamo Fabiola Polara. Le associazioni di protezione civile a Gela celebrano il loro santo. La festa si terrà presso piazza San Giacomo giorno 23 e il vostro santo patrono è San Pio. Sì, è un evento importante che coinvolge le organizzazioni che hanno preso parte ad organizzare l'evento. Si precisa che le organizzazioni sono state quattro, corpo volontari per il soccorso, eligioso soccorso, la gombes e le giubbe d'Italia. Tutte organizzazioni che operano a servizio della cittadinanza sul territorio comunale e anche regionale e nazionale. Come sarà articolata la festa? La festa è articolata in un momento che vuole essere una celebrazione proprio per ricordare la figura di questo povero tra i poveri. Qualcosa di sobrio che dovrà appunto far comprendere il valore della solidarietà espressa verso gli altri. Nulla, praticamente è una messa e poi ci sarà, alla fine della messa, una benedizione degli uomini e dei mezzi sul piazzale in distante la chiesa. È prevista la partecipazione massiccia da parte dei vostri volontari? Sì, su per giù un gentinaio e più ci sono persone della comunità di Gela, diciamo, quindi penso che saremo molti. L'appuntamento sarà giorno 23 alle ore 18 presso la chiesa San Giacomo Maggiore. Ci sarà una celebrazione eucaristica, poi la benedizione e la cittadinanza può partecipare. Sì, certo, venite in tanti e vi aspettiamo. La protezione civile e i volontari sono molto legati al loro santo protettore? Sì, certo, sono molto legati anche perché è il nostro protettore. Praticamente noi ci affidiamo come volontari di protezione civile, ci affidiamo a San Pio quando ci chiamano in fase di emergenza, con la speranza che ci aiuti ad assistere le persone. E vi rivolgete a lui anche con delle preghiere specifiche che recitate spesso tutti insieme? Sì, c'è una preghiera specifica per il volontariato di protezione civile. Fino al 25 settembre prossimo si svolge Match It Now, la settimana nazionale per l'adorazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. Anche Gela scende in piazza, sabato 24 settembre in Viale Corte Maggiore a Machitella, in collaborazione con la Croce Rossa e i VIP Clown di Caltanissetta e con il patrocinio del Comune e i volontari di Admo Gela e di Adoces Sicilia Ollus accoglieranno tutti coloro che vorranno ricevere informazioni. Servizio di odontoiatria sociale, un progetto che si muove nella direzione della solidarietà e sostegno nei confronti di coloro i quali vivono in condizioni di difficoltà e che riguarda cinque comuni, per l'esattezza Gela, Caltanissetta, San Cataldo, Sommatino e Riesi. Il progetto della CISL ha portato alla creazione di una rete contro ogni forma di povertà, in cui sono stati coinvolti dei soggetti privati e si pensa anche ad una possibile collaborazione con l'amministrazione. È l'esempio di come possono essere affrontate le politiche di welfare, ma la vera scommessa è quella di creare veramente un welfare inclusivo nel nostro paese, e in particolare in territori come questi dove le fragilità e i bisogni sono veramente aumentati a dismisura dagli anni della crisi ad oggi. L'esigenza è quella davvero di uscire dall'emergenzialità e di creare attraverso le misure, anche le recenti misure messe in atto dal governo, dalla legge di stabilità, di creare a favore della povertà, intanto le misure di contrasto alla povertà, di creare le vere infrastrutture sociali che mancano nel nostro territorio. Noi da sempre abbiamo affrontato le questioni del welfare con elementi di frammentarietà molto forti, di sovrapposizione, e l'esigenza è che il sindacato, insieme alle istituzioni, al terzo settore, alle forze del volontariato e anche al privato, riesca a creare delle vere strutture per affrontare queste emergenzialità e superarle, cercando di creare degli elementi di governance reali, forti, verso un terzo pilastro, accanto a Previdenza e Sanità, che è il welfare dell'inclusione sociale. Ritengo che sia molto importante, in questo momento storico in cui anche le risorse finanziarie si riducono sempre di più, iniziare a pensare a un sistema di welfare innovativo, un sistema di welfare che mette insieme soggetti pubblici e privati, ed è questo quello che noi stiamo facendo, proprio questo. Infatti oggi con noi c'è la banca del Nisseno, abbiamo la categoria dei medici, abbiamo anche numerosi professionisti che hanno aderito a questa progettualità. L'obiettivo è chiaramente quello di offrire una serie di prestazioni odontoiatriche con costi assolutamente calmierati. Quindi questo consentirà alle persone di poter soffrire di questo tipo di servizio e di evitare appunto di, in qualche maniera, non poter sostenere questo genere di cure. È un progetto nato dalla Gisle che la banca ha voluto condividere in quanto banca del territorio, attenta ai bisogni della gente, ai bisogni della comunità a che serviamo, e questo è un progetto che in un momento di bisogno della comunità va incontro ai più deboli. Quindi ci è sembrato giusto essere presenti e condividerlo fino in fondo. Mercoledì 12 ottobre è l'ultimo giorno utile per poter presentare all'ufficio di protocollo generale del Comune di Gela l'istanza per ottenere l'abbonamento o il contributo per il trasporto scolastico. Nel primo caso la domanda per accedere al servizio gratuito va presentata dalle famiglie degli alunni delle scuole primarie e secondarie residenti a Femmina Morta, Roccazzelle e Borgo Manfria, termini aperti anche per i nuclei familiari degli studenti che si recano in un comune diverso da Gela per frequentare le scuole secondarie di secondo grado. Ultimo appuntamento con la rassegna dell'Edistremp promossa dal direttore artistico Francesco Castellana con Anna Salsetta alla produzione esecutiva e con Francesco Trenito alla produzione tecnica. Oggi alle 22 nel quartiere Macchitella si esibirà Evelyn Leone accompagnata da Angelo Di Marco. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.